si parte con la prima il primo quarto per la categoria ragazze femmine ancora l'atleta della Elma Silla in Sardegna in prima posizione si tratta di Idda ora in seconda posizione è l'atleta numero 17 che tiene la Ignatovi Cellola in seconda sembra tenere ma dall'esterno ci prova l'atleta della Patinatori San Benedetti che ha un'uscita più larga ma tiene la numero 17 mentre la Idda con facilità guadagna la semifinale quindi Elmas e 17 Ignatovi